Buongiorno a tutti, sono Ala Fabrizio, oggi Aragorn, leader dei The Hero, un gruppo fondato a febbraio, gruppo misto Marvel, DC, anime e manga. Oggi non siamo tutti in forze, ci sono io con una piccola rappresentativa dei miei ragazzi che sono qua dietro di me e siamo qui a Genova Comics a divertirci tutti quanti, oggi è sabato, prima giornata della fiera, oggi sarà un sacco di ospiti sul palco, domani avremo la gara cosplay per pomeriggio, come vedete attorno è pieno di stand di vendita, di action figure, di bingo pop, manga, qui c'è il mixer dell'organizzazione e niente, oggi ci stiamo divertendo, venite numerosi perché è davvero una bella fiera, è piccola raccolta ma è simpatica, è dislocata in diverse vie, diverse piazzette, cosa altro dire? Passeggiate con noi, date un'occhiata a tutto quello che potete vedere, vi vorrei presentare se riesco, visto che sono presi dalle foto i ragazzi del gruppo, ecco qua, qui c'è Vittoria Zafferani, Mantis, la Mantis nazionale, ne abbiamo Alessia che è la nostra Maleficent, questa è mia figlia Nezuko che farà parte dell'Academy Coosplayer che andremo a inaugurare a Milano entro fine dell'anno e cos'altro dire, venite numerosi, venite a divertirvi e facciamo festa insieme, ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!